Salve a tutti, io sono Ale Malster e oggi vi parlerò del carro tedesco Panzer 6, il famoso Tiger. Il prototipo, dopo vari studi e prove, venne presentato dal costruttore Hanschel il 20 aprile del 1942, in occasione del compleanno del Führer. Il carro aveva un equipaggio di 5 uomini, pesava 55 tonnellate ed era spinto da un motore a benzina da 700 cavalli. Con una velocità massima di quasi 40 chilometri orari e un'autonomia di 100 chilometri. Il Tiger era lungo 6,2 metri, largo 3,73 metri e alto 2,86 metri. L'armamento principale era l'efficace cannone contro carri contro aerei, da 88 mm. Aveva inoltre due mitraglietrici MG34 da 7,2 mm. La dotazione delle munizioni era di 84 polpi da 88 mm e di quasi 6.000 cartucce per le mitraglietrici. Per la sua epoca, il Panzer VI fu un progetto eccezionale, per la potenza del cannone e la buona corazzatura. Pur non essendo particolarmente agile, fu però in grado di dominare i campi di battaglia. Nonostante il carro fosse molto complicato e difficile da produrre, dal 42 al 44 ne vennero costruiti oltre 1.350 esemplari. Il Tiger fu incontrato per la prima volta dai britannici in Tunisia e da allora apparve su tutti i fronti tedeschi. Per oggi ho finito, vi saluto e come al solito se vi sono piaciuto iscrivetevi pure sul mio canale. Ciao da Valimaster